Individuati degli agenti della squadra mobile, gli autori della rapina ai danni di un dipendente del compro a oro di Viale Trento, accaduta il 7 novembre dello scorso anno e che aveva fruttato un bottino di oltre 45.000 euro. Questa mattina, in seguito all'attività investigativa degli uomini del vicequestore aggiunto Dario Mongiovì, il giudice delle indagini preliminari Michele Contini ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di E.G. Sassarese di 57 anni e D.P.M. 53 di Porto Torres. I due avevano avvicinato la vittima in tarda serata, dopo la chiusura del negozio, e sotto la minaccia di una pistola avevano costretto la vittima a cedere la busta dell'incasso. Quindi si sono dati la fuga a bordo di un motorino, ma il derubato era riuscito a vedere la targa del mezzo, seppur parzialmente a dare una descrizione fisica dei rapinatori. Tutti elementi che hanno portato a individuare i pregiudicati, la successiva perquisizione nelle rispettive abitazioni ha anche portato alla scoperta di altra re furtiva, riconducibile ad altri furti in appartamento. Infine, nella casa del Porto Torrese, dove era presente una terza persona che è stata indagata e sottoposta a sua volta a perquisizione domiciliare, si è arrivati alla scoperta di quantitativi di cocaina che saranno oggetto di ulteriori indagini. Sui due ladri seriali c'è anche il sospetto che siano stati gli autori della rapina a una tabaccheria di Porto Torres che aveva fruttato oltre 11.000 euro. In quell'occasione, uno dei rapinatori era rimasto ferito a una gamba. La stessa cicatrice è stata riscontrata al pregiudicato Porto Torrese. I due sono stati trasferiti nel carcere di Bancali, mentre il terzo soggetto è agli arresti domiciliari.